Eccoci qui, un video attesissimo, finalmente ci siamo, un bel confronto tra il bilancio dell'Inter e quello del Milan. Ovviamente prendo riferimento i documenti ufficiali, adesso lo vedremo anche a schermo, della scorsa stagione, perché quelli attuali è palese, insomma non sono ancora a disposizione e devono ancora essere completati, redatti, la stagione è ancora in corso. Quindi ci basiamo sull'ultimo dato disponibile. Questi video, lo dico per chi dovesse essere nuovo, fosse milanista o di altre squadre, questo tipo di video l'ho fatto molto molto spesso, per quanto riguarda soprattutto l'Inter, ma ho anche analizzato il bilancio della Roma per intenderci, quindi è una cosa che porto avanti da parecchi anni perché la parte sportiva, quindi in campo, tattica, tecnica, è importante tanto quanto quella amministrativa, diciamo così, manageriale, come lo scouting o come la progettualità e come anche l'aspetto proprio finanziario. Sono tutte cose fondamentali e nel calcio moderno contano e bisogna cercare di raccapezzarsi su tutte queste variabili perché è l'insieme di tutte queste cose che poi determina la forza e anche la sostenibilità di quella forza della squadra. Questo è. Primo preambolo. Prima di arrivare al... prima di iniziare il video voglio ringraziare tutti quanti per il supporto al canale e anche per l'attenzione e la presenza ieri sera, visto che abbiamo fatto questa live di mercato, è disponibile ancora sul canale in differita per chi fa l'abbonamento e insomma veramente erano in tantissimi, fa molto molto piacere, ne faremo altre sicuramente nei prossimi giorni barra settimane. Ora andiamo a vedere un pochino la situazione. Facciamo così, ok. Avrei voluto in realtà metterli a schermo entrambi, uno a destra e uno a sinistra, però ovviamente i numeri sarebbero stati troppo piccoli, quindi accontentiamoci di fare switch. Così, questo è il del Mila, questo è l'Inter, però insomma lo dirò e spiegherò. Allora, partiamo dal conto economico. Ho scelto di andare con quest'ordine. Conto economico prima e poi andiamo sul discorso stato patrimoniale, cioè il patrimonio netto e poi andiamo a vedere i debiti, ok. Quindi andiamo con un ordine un po' diverso rispetto ad altri video che ho registrato, però penso che sia forse più interessante questo per un tifoso. Allora, c'è quest'ordine. Allora, andiamo a vedere un pochino i ricavi, i ricavi del Milan della scorsa stagione. Questo è il conto economico sui valori della produzione, quindi i ricavi. Facciamo fortunati che il bilancio di Mila è in italiano, quindi è ancora più semplice. Allora, i ricavi da gare sono i biglietti, diciamo, i biglietti allo stadio, 55 milioni. Questo dato è simile a quello dell'Inter. L'Inter, qui c'è il patrimonio netto, ok. L'Inter è sui 56 milioni, quindi più o meno. Infatti le partite sono state quasi giocate, quasi lo stesso numero di partite. Entrambe hanno fatto la Champions, un campionato ovviamente stadio pieno per entrambe le squadre. Insomma, hanno disputato, mi sembra, lo stesso numero di partite in casa, se non erro. Milan e Inter o la differenza è una partita, ecco, quindi il dato è simile. Questo vuol dire che hanno magari anche i prezzi, sono abbastanza simili tra le due squadre. Un dato invece differente sono gli abbonamenti. Gli abbonamenti per il Milan hanno apportato 16 milioni, quelli dell'Inter 22 milioni. Qui l'Inter è migliore dal punto di vista degli abbonamenti. Forse perché l'Inter viene da qualche stagione in più, dove ha una certa stabilità sportiva. Insomma, ci sono aspettative. La rosa parte sempre tra le favorite per la vittoria in generale delle varie competizioni, almeno nazionali. E anche per fare benino comunque fuori. Quindi forse può esserci anche più fiducia dei tifosi. Oppure può essere che gli abbonamenti dell'Inter siano leggermente più alti. Devo dire che io ritengo, dopo un po' di analisi fatte ormai da qualche anno, ritengo più congrui i valori dell'Inter. Nel senso che, insomma, tra 16 e 55 c'è una bella disparità tra abbonamenti e biglietti. Molte volte ho sottolineato come, lo so che poi, da tifoso è un'altra cosa, parlo da analista. Chiaro che da tifoso vorrei avere i biglietti gratis, gli abbonamenti gratis. Però, se sono freddo e, ecco, analitico, devo dire che molto spesso gli abbonamenti erano troppo vantaggiosi rispetto ai biglietti, sinceramente. L'Inter sta un po' sistemando questa cosa, sono felice, il Milan può avere ancora margine. Andiamo invece poi ad altri proventi importanti. E qua cominciano ad esserci anche un po' di differenze sostanziali. Allora, nel caso del Milan, sono stati incassati ben 80 milioni dalle sponsorizzazioni l'anno scorso. 80 milioni. Non è un dato felice a livello internazionale, intendiamoci. Però, in Italia, penso che sia la seconda migliore dopo la Juventus, se non erro, se non ricordo male. L'Inter, l'anno scorso, ha incassato 54 milioni dalle sponsorizzazioni. Un dato veramente negativo, soprattutto l'Inter, le stagioni che ha fatto ultimamente, eccetera, eccetera. Dato molto, molto, molto negativo, soprattutto spiegato dall'ammanco di Digital Beats, che non ha pagato la sua fee di sponsorizzazione l'anno scorso. L'attenzione è che però, è vero, l'ho detto mille volte, Digital Beats è male, perché gli accordi si rispettano, i contratti si rispettano. Si vedrà se magari a livello legale si riesce a fare qualcosa, ma secondo me l'Inter non riuscirà a ricavare molto. Ma ho sottolineato più volte come ci sia anche un po' di responsabilità. Mettete voi la percentuale, per me è una mezza, cioè io do una responsabilità comunque rilevante, all'Inter perché i partner si devono anche scegliere con cura e facendo una due diligence adeguata. Digital Beats opera in un settore estremamente instabile, l'ho spiegato molte volte, e per una squadra come l'Inter che ha molto bisogno di fare cassa, ha bisogno di ricavi, eccetera, fare accordi con società che vanno e vengono, non è secondo me la più avveduta delle scelte. Ma vabbè, quindi qui abbiamo il Milan che fa molto meglio. L'Inter quest'anno avrà sicuramente più ricavi, forse anche il Milan avrà aumentato qualcosa, però l'anno scorso male male. Per quanto riguarda anche i proventi commerciali, eccoci qua, abbiamo il Milan che è a quota 46 milioni, l'Inter che è a quota 13 milioni, quindi anche a livello commerciale o di accordi, diritti, eccetera, eccetera, abbiamo comunque un Milan notevolmente superiore. Quindi questi qua in totale sono circa 60-65 milioni a spanne, no? In più di ricavi per una maggiore capacità, diciamo, di attrarre accordi e via. Per quanto riguarda i diritti TV, diciamo così, dati dalla Serie A e dalla Champions, praticamente abbiamo valori similissimi, 174 milioni in totale e più o meno sono anche quelli dell'Inter, se non mi sbaglio, 196, siamo lì. La differenza qual è? Che l'Inter è andata avanti in Champions League, cioè nel senso è andata avanti, Milan è andato in semifinale, l'Inter è andato in finale. Quei 15-20 milioni di differenza sono quella roba là, sono la finale di Champions League. Pensate a voi, una partita, pam, 20 milioni in più, ecco, solo per quello. Poi abbiamo un'altra cosa, ecco, una cosa invece positiva dell'Inter, che il Milan ovviamente non ha, sono questi 17 milioni che mi pare siano dovuti alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa, cosa che chiaramente il Milan non ha vinto e quindi chiaramente sono dei soldi che ha in meno. Questi sono proprio risultati sportivi. Andiamo avanti. Vediamo se ci sono altre cose fondamentali. Ah, sì, sì, il Milan l'anno scorso non ha praticamente fatto plus valenze. Eccole qua, 268 mila euro, cioè praticamente non ha ceduto, nello scorso bilancio, nello scorso bilancio non ha ceduto giocatori, comunque non ha fatto, non ha siglato plus valenze, mentre l'Inter aveva messo insieme circa quasi una trentina di milioni di plus valenze tra Pinamonti, Casadei, non mi ricordo più adesso, ma insomma questo è. Il totale è questo. L'Inter ha totalizzato l'anno scorso un totale dei ricavi di 425 milioni, mentre il Milan si è fermato a quota 404 milioni, quindi un poco sotto all'Inter, ma considerate questa cosa. Attenzione, è vero che il Milan è leggermente sotto all'Inter, circa di appunto di una ventina di milioni, 20 milioni sotto, ma considerate che ha fatto 20 milioni sotto il Milan senza avere i risultati sportivi dell'Inter e senza cedere giocatori. Se anche solo il Milan avesse ceduto la stessa quota di calciatori dell'Inter, avrebbe superato l'Inter con i ricavi, anche senza vincere la Supercoppa, senza vincere la Coppa Italia e senza arrivare in finali di Champions. Ok, quindi questo ci dice subito che il Milan sembra avere un potenziale a livello aziendale di ricavi superiore all'Inter. a parità quindi di risultati sportivi e di cessioni, il Milan avrebbe probabilmente un fatturato superiore all'Inter al momento. Questo è non di molto, ma ecco, leggermente sì. Andiamo avanti, vediamo adesso i costi, i costi che sono la vera, il vero tassello, la vera differenza sono i costi, più che i ricavi. I ricavi, potenzialmente il Milan potrebbe essere leggermente, leggermente superiore, ma più o meno siamo sulla stessa ordine di grandezza. I costi, vediamo i costi ragazzi, che sono molto più rilevanti. Lo annuncio subito. Allora, abbiamo il Milan, andiamo, a parte vabbè, i costi per la produzione, qua ci sono le materie prime, eccetera, eccetera. Il Milan vi dico subito che qui è leggermente superiore all'Inter, siamo a 120 milioni in totale, contro un 80 circa dell'Inter. Bisognerebbe capire bene le voci, cosa mettono dentro. Vi dico subito che però, da quello che ho capito, il Milan si è avvalso di una serie di collaborazioni, eccetera, per cui ha speso, poi anche gli agenti, magari qualche acquisto in più, agenti, commissioni, quindi sembra aver speso qualcosa in più quell'anno lì. Però, se andiamo a vedere l'anno prima, 75 milioni, mi verrebbe da pensare che sia un po' un una tantum, magari sono stati fatti dei lavori anche, vabbè, comunque, lasciamo lì. La cosa che voglio invece sottolineare è il costo rosa. Eccoci qua, andiamo nel vivo della situazione. Il Milan ha speso l'anno scorso per stipendi e salari, non solo della rosa e della prima squadra, ma in generale tutti i stipendi e salari del Milan, in totale, in totale, insomma, sono costati 173, 174 milioni, ok? In leggerissimo aumento, leggerissimo, nonostante abbia fatto mercato, in leggerissimo aumento dai 170 di prima. Quindi, ricordatevi, stipendi e salari totali di tutta la società, 174 milioni. Quelli dell'Inter, invece, sono abbastanza superiori. Da 174 del Milan, passiamo a, in totale, 205 più 10, più altri 10, siamo a 225, ok? Quindi abbiamo già una differenza notevole, notevole. Da, appunto, 175 di fatto a 225. Sono già 50 milioni in più di costi, solo di stipendi e salari dell'Inter. Poi andiamo anche, perché il costo rosa è formato dagli stipendi, ma è formato anche dagli ammortamenti dei giocatori, no? Che vagli ad acquistare. Gli ammortamenti per il Milan valgono circa 71 milioni di costo annuo, di impatto annuo, 71 milioni. Nel caso dell'Inter, invece, siamo a, praticamente, 120, ok? Eccoli qua. 112, e più, altre cose, insomma, anche minusvalenze fatte, ecco, una cosa che l'Inter ha fatto è sette, quasi otto milioni di minusvalenze, mentre il Milan ne ha fatte due milioni, ecco, di minusvalenze. Ma in totale, appunto, siamo a 70 contro 120. È quasi il doppio, quasi il doppio. Quindi, i costi sono notevolmente superiori. Andiamo avanti, poi tireremo le somme alla fine. Ah, un'altra cosa, sul costo rosa, ovviamente, da menzionare anche, eventualmente, non acquisizioni, ma anche prestiti. Il Milan ha speso circa 4 milioni l'anno scorso per prestiti, l'Inter 11 milioni, eccola qua. Ok, in totale, i costi della produzione, quindi i costi operativi della società, sono, per quanto riguarda il Milan, 390, praticamente, 390 milioni di costi, a fronte dei 404 di ricavi, ok, quindi 390 i costi, per quanto riguarda l'Inter, sono 465, quindi, circa, insomma, 75-80 milioni in più, del Milan. Andiamo avanti, perché non è finita qui, in realtà, ma poi c'è la parte, per concludere, la parte finanziaria, perché questi sono i costi operativi, ma poi, una società, ha i costi, sì, per i giocatori, gli stipendi, eccetera, ma ci sono anche i costi finanziari, i servizi preventi, o onori finanziari. Allora, per quanto riguarda il Milan, i servizi finanziari, quindi gli interessi, sul debito, bond, eccetera, eccetera, sono molto, molto, bassi, perché, di fatto, non hanno grandi finanziamenti, bond in essere, o debiti da sostenere, di fatto, e quindi, gli interessi che vanno a pagare, sono nell'ordine di pochi, 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 pochi milioni, stanno, diciamo, sulle dita di una mano, circa 5 milioni, però anche dei, dei proventi finanziari, per delle operazioni che fanno, in totale, il peso degli onori finanziari, è circa di 3 milioni all'anno, praticamente, zero. Ok, quindi il Milan, di fatto, il bilancio del Milan, si basa su, ricavi, costi, operativi, basta. Nel caso dell'Inter, invece, l'Inter ha molti debiti, lo vedremo dopo, vari bond, finanziamenti, eccetera, e in totale, paga ogni anno, circa 40 milioni, se ne vanno, solo per pagare gli interessi, ok? Sono costi, che quindi non puoi tramutare, in giocatori, eccetera, ma vanno solo, per, per sostenere, diciamo così, il debito, chiamiamolo così, per gli interessi finanziari, e, quindi, capite, questi sono costi aggiuntivi, e in totale, andiamo quindi, alla fine, con il risultato di bilancio, che per il Milan, è positivo, quindi è inutile, ancora una volta, a sfregio di chi dice, che non si può, nel calcio, essere sostenibili, o essere inutile, il Milan, ci è riuscito, e facendo comunque, una buona stagione, essendo comunque competitivo, nelle varie competizioni, e ha chiuso inutile, per 6 milioni, nel caso dell'Inter, invece, l'Inter ha chiuso, in rosso, di 85 milioni, questo è, il conto economico, ora, andiamo, allo stato patrimoniale, andiamo al patrimonio netto, dovrebbe essere qua sotto, eccolo qua, questo dell'Inter, e andiamo in quello del Milan, allora, eccolo qua, allora, il patrimonio netto, che sarebbe praticamente, l'istantanea, come dire, una foto, del valore, diciamo così, del capitale, della società, non so come spiegare, in maniera semplice, per i non addetti ai lavori, insomma, ecco, nel caso del Milan, il patrimonio netto, è di 177 milioni, tra, capitale sociale, riserve, per perdite, o altre cose, è di 177 milioni, nel caso dell'Inter, è negativo, quando ci sono le parentesi, vuol dire meno, in gioco contabile, è negativo, per 161 milioni, quindi una bella differenza, tenete presente, che quando c'è il patrimonio netto, negativo, è un allarme, di solito, che, insomma, che vuol dire, attenzione, allarme, fallimento, che non vuol dire, stai fallendo, ma attenzione al trend, devi sistemarlo, perché, ecco, addirittura, a livello anche legislativo, il patrimonio, quando c'è il patrimonio netto, di solito, comunque, si accumulano anche perdite, perdite, molte perdite, bisogna anche ripianare, dopo 8 anni, poi sono cambiate un po' le leggi, in questi ultimi anni qua, con il discorso pandemico, però, insomma, quello è, e come mai, c'è il patrimonio netto, molto negativo, per quanto riguarda l'Inter, e invece, Milan ce l'ha in positivo, di fatto, la differenza, ragazzi, più che capitale sociale, eccetera, sono le perdite accumulate, nel caso del Milan, sono state, ci sono accumulate, quindi, che si portano a nuovo, che vanno ripianate, quindi, ogni anno, si inizia con, un meno, ecco, è meno 51, il Milan ha accumulato, negli anni, 51 milioni di perdite, attenzione, che quando fai utile, di fatto, l'utile può essere utilizzato, per abbassare le perdite, da ripianare, quindi, si può tranquillamente, fare anche questa cosa, quindi, può essere che quest'anno, nuovo, il Milan, abbia, addirittura, meno di 51, di perdite accumulate, ma, 40, 30, 20, bisogna vedere, anche come finisce, questo, questo bilancio qui, però, il trend è sicuramente, molto virtuoso, le perdite accumulate, sono molto poche, rispetto al valore del club, i costi, i ricavi, eccetera, eccetera, e addirittura, il club è inutile, nel caso dell'Inter, invece, le perdite accumulate, sono circa di, 700 milioni, erano 620 milioni, l'anno scorso, quindi, perdite portate a nuovo, perde che ti porti avanti, che dovrai, che dovrai ripianare nel tempo, e però, l'anno scorso, sono stati aggiunti, altri 85 milioni di perde, quindi, di fatto, le perdite accumulate, diventano 700 milioni, bisogna vedere come si chiude quest'anno, se finisce, quest'anno, in pareggio, l'Inter, rimane con 700 milioni, di perde accumulate, da ripianare, se invece, finiamo in meno qualcosa, se aggiungeranno, questi meno qualcosa, alle 700, quindi, la situazione è, notevolmente diversa, notevolmente diversa, andiamo, per concludere ai debiti, poi andiamo alle conclusioni finali, per quanto riguarda i debiti, il Milan, ha in totale, 250 milioni, di debiti, la situazione debitoria, netta, cioè, contando solo i debiti, finanziari, togliendo i crediti e, vedendo anche quello che c'è, ma anche in cassa e via, la situazione netta del Milan, dovrebbe essere di 100 milioni, i debiti, diciamo, il debito netto, il debito netto, però i debiti lordi, in totale, sono 250, nel caso dell'Inter, invece, abbiamo numeri, anche qua, molto diversi, nel caso dell'Inter, l'indebitamento netto, è circa di 300 milioni, i debiti lordi, però, sono di 800, più di 800, sono 807 milioni, ovviamente, una grande fetta, di questi debiti, sono rappresentati dal bond, con, che va, che scade, con scadenza del 2027, e, di 415 milioni, ne sono rimasti, probabilmente, non sono rimasti 405, altri abbiamo già, ridati indietro, diciamo così, come d'accordi, ma, di fatto, questo, ed è anche, tra l'altro, il grosso debito finanziario, che, genera, grandi interessi, negativi, annuali, perché l'Inter, i famosi 40 milioni di interessi, all'anno, li paga, soprattutto, su questo bond, ok, e, questi soldi, di fatto, questi bond, questi finanziamenti, si accendono, di fatto, per, per avere liquidità, per, per questioni finanziarie, per necessità, finanziarie dell'Inter, che, appunto, avendo tanti costi, avendo, bruciando anche, non solo, avendo molti costi, a livello di conto economico, ma anche, bruciando cassa, ha bisogno di, costantemente, di immissioni, di capitale, o di finanziamenti, o di accendere bond, eccetera, eccetera, questa è, differenza, ma abbastanza notevole, tra i due club, a livello proprio, manageriale, amministrativo, contabile, eccetera, concludendo, anzi, in conclusione, mi metto io di nuovo, eccoci qua, secondo, benissimo, in conclusione, qual è la situazione, quindi, dei due club, lo stato dell'arte, diciamo così, l'Inter, ricapitolando, l'Inter ha, in questi, l'anno scorso, soprattutto, ma in generale, l'anno scorso, ha comunque risultati sportivi, che sono superiori al Milan, attualmente, di poco però, bisogna anche dire che sono superiori, ma bisogna anche quantificare, il quantificare è di poco superiori, l'Inter è arrivata in terza in Serie A, ha vinto la Supercoppa Italiana, ha vinto la Coppa Italia, e è arrivata in finale di Champions League, in Milan, l'anno scorso, è arrivato nella posizione, precisamente sotto all'Inter, in tutte queste competizioni, quindi molto vicina, è arrivata quarta, invece che terza in campionato, è arrivata in Supercoppa, è stata, mi sembra, la finalista, se non erro, con l'Inter, mi sembra l'anno scorso, o comunque ecco, in Coppa Italia, anche là, attraverso le fasi finali, e la finale di Champions League, l'Inter è andata in finale, battendo proprio il Milan, che è arrivata in semifinale, e quindi i risultati sportivi, sono, sono similari, sono inferiori, ma appiccicati, basta un tassello, e sei a quota Inter, ecco, attenzione che però, questa leggera, leggerissima differenza, a livello sportivo, è compensata, da una mastodontica differenza, a livello, a livello contabile, e poi andiamo alla conclusione, cioè, il costo rosa dell'Inter, è vero che l'Inter ha fatto, un po' meglio, ma il costo rosa dell'Inter, era, più del 40%, più alto, di quello del Milan, cioè, non leggermente, non è che l'Inter ha fatto, leggermente meglio, a livello sportivo, ma, economicamente, ha speso, leggermente, più del Milan, o a costi, leggermente, maggiori del Milan, a costi che sono, più del 40%, maggiori appunto, a cui però, non basta questo, perché poi la situazione, in generale dell'Inter, costo rosa è questo, di rapporto, ma poi c'è tutto anche il resto, come vi ho detto prima, a cui vanno aggiunti, a questo 40% di più di costo, solo per la rosa, 40 milioni annui, di differenza, col Milan, sugli interessi, per il mantenimento finanziario, una situazione debitoria, che è più che tripla, rispetto a quella del Milan, 250, l'ordi contro 800, e anche l'indepitamento netto, è triplo, 100 contro 300, una differenza, di perdite, accumulate, di circa, 650 milioni, tra una e l'altra, i 50 del Milan, contro i 700 dell'Inter, è vero che entrambe, sono in miglioramento, come trend, ma il Milan, è inutile, l'Inter, è ancora in perdita, e poi, appunto, il patrimonio netto, meno 160 per il Milan, contro, scusami, ho abbonato, meno 160 per l'Inter, negativo, contro i più 180 del Milan, quindi qua abbiamo una differenza, di patrimonio netto, di circa 340 milioni, concludendo quindi, diciamo che, uno dei due club, è sostenibile, e può continuare, ad investire, e potenziarsi, quindi, chiaramente parlo del Milan, il Milan, è a un punto, di partenza, quindi chiaramente, i tifosi dell'Inter, possono essere felici, del fatto che al momento, siamo superiori, ma, bisogna avere cognizione, che questi sono i numeri, e quindi possiamo, con assoluta, con assoluta, certezza, dire che, il Milan, è a una sorta, di punto di partenza, o comunque, se non è di partenza, un punto intermedio, un punto in cui, ha ancora margini, e può potenziarsi, in maniera sostenibile, può aumentare i costi, può investire, può migliorarsi, come anche organico, come investimenti, e in generale, mentre l'Inter, è vero che il momento, è leggermente, superiore al Milan, come risultati sportivi, e via, però, in realtà, deve abbassare i costi, deve rientrare, da una situazione, che è di fatto, gravissima, perché questo è, e quindi, possiamo considerare, l'Inter, assolutamente, a un punto di arrivo, dove, se fa il miracolo, consolida, di fatto, gli investimenti, consolida, la potenza di fuoco, anche sul mercato, per migliorarsi, e, diciamo che il progetto, è difficile, dargli benzina, mentre, in quello del Milan, è un progetto, in cui, ogni anno, si metterà benzina, è in continuo miglioramento, il Milan, dal punto di vista tecnico, lo dico anche, da avversario, palesemente, la rosa, è migliore, poi, mi hai detto che, i risultati vengano, sempre, se è la rosa migliore, perché sai, i pioli, per me, è un discreto tecnico, ma niente di che, è stato molto montato, in zaghi, sicuramente, è molto superiore, ma la rosa del Milan, a mio avviso, è in miglioramento, e migliorerà ancora, quella dell'Inter, siamo, sono degli anni, che stiamo continuando, a cercare, di fare il miracolo, di tenerla, più o meno lì, come forza, non abbiamo la possibilità, di migliorarla, proprio tecnicamente, economicamente, più che tecnicamente, e, quindi ecco, l'Inter è un punto di arrivo, o forse, volessimo essere un po' cattivi, di non ritorno, infatti, senza proprietà, l'Inter, cioè senza proprietà, che immette soldi, butta dentro soldi, di fatto, l'Inter fallirebbe, un patrimonio netto, del genere, debiti accumulati, del genere, è ancora in perdita, senza una proprietà, dietro, che continua, a buttare dentro soldi, con aumenti di capitale, o finanziamento soci, poi, non richiesto indietro, eccetera, l'Inter, di fatto, non sarebbe più sostenibile, e crollerebbe, fallirebbe, non sussisterebbe più, ecco, questa è la verità, sottolineo, infatti, che Suning, ha messo, circa 700 milioni, dentro l'Inter, ok, tra, aumenti di capitale, finanziamenti, non, non, non poi riscossi, quindi di fatto, regali all'Inter, eccetera, eccetera, circa 700 milioni, sponsor, e via, in sette anni di Inter, questo vuol dire, una media di 100 milioni all'anno, di sostegno finanziario, al club, questi sono i numeri, i dati ufficiali, ok, questo lo dico anche per, quelli che dicono, no ma, Zango, non ha mai messo i soldi, Suning, non ha mai messo i soldi, la dirigenza, fa il capolavoro, per stare a galla, con una proprietà, che non mette niente, è il contrario, la verità è, è praticamente il contrario, i dati, i documenti ufficiali, lo dicono, queste cose abbiamo spiegato mille volte, la proprietà ha messo tanti tanti soldi, anche di più di quello che, avrebbe avuto forse senso mettere, non a caso, non a caso, nonostante tutti i soldi messi dentro, oggi l'Inter, non è che valga molto, molto di più, del, anzi, vale appena appena, se Zang vende l'Inter, si rifinanzia praticamente, i soldi che ha messo dentro, quindi a livello finanziario, è stato un pessimo investimento, il ritorno in genere, quando fai operazioni finanziarie, di così, acquisto per poi ricevere tutto, deve essere almeno del 2x, così, no, quello dell'Inter è un 1x, praticamente, cioè, quasi pari, è un buco nell'acqua, praticamente, questo vuol dire che Zang ha investito, equity, ha messo soldi dentro, alla società, che poi non sono fruttati, perché di fatto, la società ha prodotto, un sacco di perdite, l'ebitda dell'Inter, non è sufficientemente alto, per dare un senso, all'investimento speso, all'investimento profuso, questa è la situazione, bene, penso di aver concluso, quindi, la conclusione è un po' questa, cioè, l'Inter è sicuramente superiore, grazie a risultati sportivi, attualmente, anche a un tecnico, sicuramente, eccezionale, come quello, come quello, in Zaghi, però, dal punto di vista, della forza, poi della sostenibilità, che poi si tramuta in forza in campo, perché è vero che nel brevissimo termine, conta la squadra che hai, lì per lì, e magari l'Inter è attualmente superiore, però la forza, la solidità di un club, la salute economico-finanziaria, è quello che ti permette, a quella forza, che hai attualmente, di mantenersi, o addirittura di migliorare, nel medio, e nel lungo periodo, ok, questo è il tema, ok, magari, Milan attualmente, è ancora inferiore sul campo, però, in realtà, la base sotto, è molto solida, quindi, Milan è quello che è, ma, è un punto, diciamo, quasi di partenza, e quindi, le potenzialità future, allo stato attuale, vedono un Milan, superiore all'Inter, allo stato attuale, poi, l'Inter, non a caso, è un'intenzione molto grave, e, probabilmente, passerà la mano societaria, e bisognerà vedere, se magari lì si rimescono le carte, e con una proprietà diversa, che, non tanto che metta più soldi, perché non bisogna mettere soldi nell'Inter, bisogna efficientarla l'Inter, avete visto che, l'Inter è un po' superiore, ma a fronte di costi rosa, notevolmente superiori, se l'Inter avesse costi, poco superiori, a quelli del Milan, e avessi i risultati che ottiene sul campo ad oggi, sarebbe già diversa la situazione, invece, otteniamo quei risultati, a fronte di costi molto alti, e i ricavi non sono eccezionali, facciamo anche degli errori, visto la sponsorizzazione, e altre situazioni del genere. Bene, tutto questo, ricordando anche che il Milan, l'anno scorso, non ha ceduto nessuno, perché se il Milan comincia a cedere, due, tre giocatori, fa 30, 40 milioni di più su Valenze, sono altri soldi in più, che ogni anno può avere, comunque per avere un aumento dei costi, sempre sostenibile però, quindi il Milan ha molto margine, il Milan ha fatto utile, pur non vendendo nessuno l'anno scorso, questo voglio sostolinearlo, attenzione, non è che abbia vinto chissà cosa, ha vinto tutto, no, ha vinto, ha fatto bene, può fare ancora meglio, non ha ceduto nessuno, ed era inutile, questo significa che hanno margine, di aumento dei costi, e questo vuol dire comprare giocatori più importanti, dare stipendi più alti, comprare giocatori, accogliere opportunità di mercato, eccetera, eccetera, quindi potenziarsi, prendere magari un allenatore migliore, non glielo auguro, perché sennò da interista sarebbero più competitivi, quindi spero che rimanga più oli per qualche anno, però capito, il senso è quello, il Mila ha più potenzialità, ogni anno, se facessero, se contassero che ogni anno, riescono a fare anche solo 20-30 milioni di plus valenze, che non è niente di che, ma è bastato c'è il giocatore medio, e via, potrebbero potenzialmente, aumentare i costi ogni anno di 30 milioni, rispetto adesso di 30 milioni, capito, e avere quindi, una rosa più forte, con cui magari fai più risultati sportivi, ti aumentano anche altri ricavi, cioè è un fiume che va in su, è un fiume virtuoso, che può crescere in Mila, nell'Inter invece non è così, l'Inter deve essere brava ad abbassare i costi, se riesce mantenendo la competitività, basta ragazzi, ho detto anche troppo, tutto abbastanza chiaro, penso, palese, fatemi sapere quello che pensate, scrivete nei commenti, ma soprattutto, spero che siete arrivate fino a qua, e soprattutto, condividete il video ragazzi, iscrivetevi, attivate le notifiche, condividete i video, parlatene anche agli altri, che si può fare informazione, non giornalismo, ma divulgazione, parlare di calcio, in maniera diversa, dal solito, quindi fate conoscere il canale, e poi se volete supportare il mio progetto, il mio lavoro, il mio impegno, eccetera eccetera, c'è anche l'abbonamento, o anche i donazioni, ci sono i super grassi, tutti i vari modi, che YouTube mette a disposizione, ragazzi, vi saluto, forza Inter, dico da interista, alla fine, ma, forza Inter, soprattutto, ma cerchiamo di prendere, tenere le cose dove siamo forti, forti, l'aspetto tattico, il gioco, inzaghi e via, ma cerchiamo anche, ovviamente, il pubblico, lo stadio, ma cerchiamo anche di prendere, dagli altri, se sono più bravi di noi, e il Milan, a livello societario, di business plan, sicuramente, e quindi anche a livello aziendale, e manageriale, è attualmente, migliore dell'Inter, lo posso dire, rosico, ma lo devo dire, palesemente, bisogna essere onesti, ecco, sportivi, poi rivalità massima, sapete che il Milan, io testo, però, bisogna essere onesti, e guardarsi in faccia, e dirsi le cose come stanno, a presto ragazzi, forza Inter, ovviamente. Grazie a tutti.